Ciao amici di Italia Top Games, giorni caldi, caldissimi non solo per il clima, ma anche perché in questi giorni vi sto proponendo tantissimi filmati dedicati a PES 2020, però non ci dimentichiamo i PES 2019, anche questa settimana andiamo a scoprire gli aggiornamenti. Prima però l'off topic, il solito off topic, vi ricordo che oggi con il TG Tech si vince MotoGP19 per Xbox One, codice download con cui scaricare il gioco da Xbox Live. Alle 15 su italiatopgames.it tutti i dettagli su come vincere, la domanda, e poi alle 16 in diretta su Simpli Radio, basta cercarla sul web se non siete a Roma e dintorni e potete partecipare a questo contest da non perdere. Bene, PES 2019, in primis campagna, tripli punti esperienza per questa settimana e in regalo una palla nera level 1 da domani, tutti i dettagli nell'articolo del nostro blog e quindi dopo li cercate lì. Andiamo a vedere invece oggi nel video le cose che vi possiamo mostrare, qui intanto vediamo i giocatori in risalto. Vediamo un giocatore di Arsenal, Chelsea e Zinlischi del Napoli. Vediamo un po' come viene considerato questo agente particolare, diciamo, un po' particolare. Andiamo subito a vedere il tempo di caricare. E poi le altre novità tanto nuove non sono, ma comunque andiamo a vedere tutto. Allora, cominciamo appunto... No, scusate, mi sono sbagliato. Allora, andiamo a vedere gli agenti. Allora, agente speciale, mi incuriosisce. Allora, ah, gli European Cup, diciamo, sono una cosa un po' generica, diciamo. Ecco, Hazard, che fa paura, 94, pazzesco. Dribbling 98, potenza dirompente 97. Aubameyang, velocità 99, potenza dirompente 98. Giroud, colpo di testa 97, contatto fisico 96. Marco Salonzo, un bel 90 come terzino sinistro. Check, sulla via del ritiro, ma prima che si ritiri, guardate un po' i livelli di portiere. Ben Yedder, mobilità offensiva 93, finalizzazione 92. Piotr Zelinsky, tutti i parametri in aumento, senza eccedere, senza nessun 90, ma tutti in aumento. Joao Felix, giovane interessantissimo, potenza dirompente 92, controllo del corpo 92. Agente, POZ, European Cup, d'accordo, interessante. E poi c'è il pool da collezione con tante nuove, nuove nel senso di questa settimana, perché già ci sono da un pezzo. Digarmando Maradona, Lewandowski, Salah, Maldini, Deglish, Hummels, Vierabba, Tistutasch, Kante, Aubameyang, Chiellini, Matteus, Boteng, Eriksson, Andanovic, Manolas, Dzeko, Pjanic, Amsic, Müller, Alaba, Manema, Rees, Scesni, Mkhitaryan, Aspiriqueta, Kimik, Nengolan, Milinkovic, Savic, Sokratis, Mandzukic. Vediamo un po' se c'è qualche altra leggenda, sì c'è Stankovic a 83, Ljungberg, Fowler, quindi di leggende ce ne stanno in questo pool, interessante, interessante, anche se leggende nuove relativamente, diciamo leggende riciclate, dai, diciamo così, ma siamo a giugno, ci mancherebbe altro. Sfide di oggi, allora, solite tre sfide della challenge, tre sfide durante la settimana, preparatoria di debilità, eccetera, eccetera, ormai le conoscete, potrebbe cambiare ogni tanto e c'è solo questa, tanto per dire che ormai siamo a fine stagione. La Coppa Challenge Online, invece, vediamo cosa ci propone, Winstreet Challenge, vediamo, allora, vinci tutte e tre le partite, però due agenti di, due giri di pool da collezione, almeno è una differenza rispetto al solito, vincere tre partite online non è facile, però, però, l'idea ci stuzzica, ci stuzzica, ed è finita qua per oggi, ragazzi, dai, ormai siamo a fine stagione, però, diciamo che un 6 meno meno a questo aggiornamento lo diamo, perché? Perché da domani c'è una, c'è un, una palla nera level one in regalo, perché qualche challenge c'è, ci sono le leggende, ci sono ancora i giocatori if, e quindi un 6 meno meno come voto oggi lo diamo a questo aggiornamento. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, aspetto i vostri commenti, vi ricordo ancora una volta che stasera si vince MotoGP 19 per Xbox One, su Italia Top Games alle 15, tutti i dettagli per vincere, e buona estate a tutti, con PES 2019, ci vediamo la prossima settimana, ma, chissà che nel frattempo non avremo fatto qualche altro video su PES 2020, a non tanti, ad alcuni non piace la dicitura PES 2020, su FIFA 20, e su chissà quale altro gioco. A presto e buon pezzo a tutti, ciao!